Riprendendo questa playlist dopo una pausa davvero troppo lunga, mi scuso, penso sia davvero opportuno dedicare alcuni minuti a ripercorrere velocissimamente almeno l'elenco degli argomenti trattati nei video precedenti. Questo servirà sia ai vecchi follower per riagganciare il discorso, sia per chi è capitato qua, su questo video, senza aver visto i precedenti e potrà decidere se andare a recuperare i vecchi capitoli. Abbiamo iniziato proponendo questo modello di canale trasmissivo che vede una sorgente S inviare messaggi sul canale verso un destinatario D e ci siamo allora posti il problema di come possano essere rappresentate le informazioni nelle loro molteplici forme, numeri, testi, immagini, video, suoni, ma a più livelli. Infatti abbiamo obiettivi diversi a seconda che la rappresentazione sia per così dire interna, cioè nelle RAM degli elaboratori, dove il principale obiettivo è una loro elaborazione efficiente, da altre forme o mutazioni delle prime che vanno a ottimizzare altri aspetti quando le stesse informazioni devono essere trasmesse o anche solo memorizzate sui dischi. Stiamo pensando alla compressione dei dati, la cosiddetta codifica disorgente, ma anche una cosa che apparentemente contrasta perché aggiunge di solito ridondanza, e cioè la gestione degli errori causati dal rumore e dal disturbo. Abbiamo distinto tra cosa sia rumore e cosa sia disturbo. È il grosso capitolo della rilevazione degli errori, cioè accorgersi che qualcosa è andato storto durante la trasmissione e, se possibile, e fino a un certo limite, alla correzione degli stessi, senza essere costretti a richiedere la trasmissione del segmento che è arrivato con l'errore. Come ho evidenzato qua sulla destra, nel caso della compressione si parla di codifica disorgente, mentre per la rilevazione e la correzione di codifica di canale. Naturalmente il punto di partenza per qualunque approfondimento sta nel capire perché sia stato scelto il sistema di numerazione binario per la rappresentazione generale, intendiamo, di questi dati, e poi tutte le forme speciali che però hanno appunto il binario come neuronucleo. Ma prima di buttarmi negli aspetti tecnici, ho voluto fare un gustoso, spero, escursus in quella che è la storia della gestione dell'informazione che, almeno all'inizio, coincide con quella che era l'esigenza principale nei secoli, e cioè quella di, in qualche modo, sveltire e, per quanto possibile, automatizzare i calcoli. E si è trattato davvero di un viaggio attraverso il genio. Genio che non ha a che fare solamente con i transistor, ci mancherebbe. Storia che è anche mistero, quasi fantascienza, con macchine impossibili per l'epoca, eppure che sono lì a testimoniare genialità allo stato puro. Ci siamo un po' avvicinati ai primi esempi debitamente documentati, dove genio dell'elettronica coincideva con genio della meccanica, che probabilmente trova in Babbage, il padre del moderno computer, tutto realizzato meccanicamente, la sua più alta espressione. E non mancava nulla, eh? L'input dei dati, la memoria per le istruzioni e i dati, il microprocessore, la stampa, tutto meccanico ma perfettamente funzionante. Ed è arrivato il momento di entrare a pie pari nell'era moderna, e focus sulle invenzioni che hanno segnato il passaggio dalla prima alla seconda, la terza e la quarta generazione. E c'è spazio e gloria anche per un italiano poco conosciuto, purtroppo. Bene, quell'escursus era servito ad evitare tutti i pezzi del puzzle che rendono oggi l'informatica elettronica quello che sono. A Leibniz sistema binario, a Boole, la logica basata sull'insieme di due elementi, che poi diventeranno uno zero naturalmente, Shannon per aver trovato un modo di svolgere con circuiti elettrici quei calcoli logici che Boole era stato in grado di impostare con carta e penna, e Turing che ha chiuso il cerchio col suo modello teorico di macchina universale che poi sarebbe diventato il computer. E vedete che alla base di tutto, come un filo rosso che attraversa questi pezzi del puzzle, c'è sempre lui, il sistema di numerazione binario. Why? E naturalmente a questo ho dedicato un'intera lezione. Le lezioni successive le ho dedicate alla comprensione abbastanza approfondita del sistema binario, diciamo, puro, cioè senza quegli accorgimenti e quelle tecniche che, basandosi su questo, sono state messe alle base del funzionamento dei moderni circuiti elettronici. E siamo, diciamo, a metà playlist. Dopo il binario abbiamo introdotto la base 8 e la base 16, scoprendo il perché sono così collegati tra di loro e il motivo per cui, che è la cosa più importante, vengono utilizzate. Ora dobbiamo anche preoccuparci di come sia possibile fare operazioni utilizzando questi numeri binari. Insomma, poi, prima della sottrazione, capire come rappresentare i numeri negativi. E abbiamo approfondito, non poco, perché a me non piace dire semplicemente ecco, si rappresentano così. Voglio che si capisca il perché si è arrivati alla famosa rappresentazione in complemento al 2 per numeri negativi. spiegandovi per filo e per segno come si possa, quasi per magia, riuscire in binario a fare delle sottrazioni senza mai dover, di fatto, calcolare delle differenze, solo facendo operazioni più elementari sui bit e utilizzando le somme. Come dire, anche se sembra una piccola magia, fare le differenze utilizzando le somme. E questo si traduce in meno circuiti da dover realizzare e circuiti più semplici. E non ci siamo fatti mancare neppure una piccola lezione di approfondimento da paura per toccare con mano che quegli argomenti teorici hanno un riscontro concreto. Abbiamo esposto la rappresentazione dei numeri negativi nella RAM usando il C o C++ e abbiamo visto, nell'esempio, in questione, che il numero meno 27 è davvero presente nella RAM all'indirizzo previsto secondo la rappresentazione in complemento a 2. E questo ci ha permesso anche di toccare argomenti meno conosciuti ma molto importanti quando si vuole andare a programmare a livello hardware. E non vi stupirà sapere che quella qualche errorino nelle varie slide che ho presentato c'era. Leggete anche i commenti post perché lì il follower attento se ne è accorto e ho avuto così la possibilità di correggermi. Ultimo step per quello che riguarda la rappresentazione interna delle quantità numeriche è i numeri con la virgola, i numeri cosiddetti reali. Senza entrare qui troppo in dettaglio, cioè non ho spiegato poi come si svolgono con negativi algoritmi le moltiplicazioni, le somme e sottrazioni, sarebbe stato davvero un po' troppo pesante. Ho però almeno accennato a quello che è il formato standard per motivi di performance, anche se soffre di problemi di approssimazione a volte letali, ovviamente c'è la contromisura, il formato standardizzato a livello internazionale IEEE 754. Mi preme però stolineare che poi per poter proseguire nella fruizione della playlist, la parte nuova che avrei intenzione ad aggiungere, non c'è assolutamente bisogno di aver capito a fondo o in dettaglio questi meccanismi. L'obiettivo era quello di introdurre alcuni concetti e di creare un terreno comune poi di discussione. Orbene, limitandosi alla rappresentazione delle quantità numeriche in formato interno adatto per le elaborazioni efficienti, tutto sommato non ci siamo discostati poi così tanto dal binario puro. In fondo si è trattato di numeri per numeri, ma passando alla digitalizzazione di tutte le altre forme di informazione, audio, video, testi, immagini, vedrete che lo spettro dei possibili schemi di rappresentazione e degli algoritmi per la compressione e gestione della rilevazione e correzione degli errori è ampio. Mettiamoci allora almeno d'accordo, è questo il senso dell'argomento che affronterò con i primi video di questa playlist risuscitata, mettiamoci almeno d'accordo su una unità di misura dell'informazione, almeno a livello intuitivo, moderatamente teorico, anche perché andremmo a sfociare facilmente verso un livello universitario e forse anche oltre. Qualcosa che con una formula abbastanza semplice ci permetta di ragionare sull'efficienza raggiunta con un certo schema di rappresentazione, vedere se ha un senso andare oltre oppure accontentarci perché la teoria ci dimostra che oltre non è possibile andare, ad esempio. E quella famosa formuletta di cui abbiamo bisogno ce l'ha fornita uno dei padri dell'informatica, il signor Shannon. Vedete, a differenza tra la matematica e l'esperienza, è che l'esperienza può darti un risultato anche corretto nel 90% dei casi, quando poi arriva quello particolare che fa franare tutte le tue ipotesi e supposizioni. La matematica invece ti dimostra che una certa cosa è così, per cui riuscire a dare un'interpretazione e un modello matematico di un qualcosa è non plus ultra, per qualunque campo applicativo. Shannon, generalizzando un caso già trattato da un suo collega Hartley, poi magari ne parliamo, fornisce un'interpretazione matematica dell'informazione collegata alla probabilità con la quale un certo sistema si trova in un certo stato, tra tutti quelli possibili. E l'intuizione geniale che poi ha portato alla famosa formula è stata quella di capire che maggiore è l'incertezza sullo stato in cui si trova la sorgente che sta emettendo messaggi e maggiore, dobbiamo considerare, la quantità di informazione collegata ad ogni singolo messaggio che riceviamo da quella sorgente. Facciamo un esempio pratico. Consideriamo come sistema una moneta che può essere in due possibili stati, i classi testo o croce. Quando ricevo da questo sistema il messaggio che mi chiarisce in che stato si trovi, testo o croce, è intuitivo se la moneta non gioca strani scherzi, per intenderci, escludiamo il caso rappresentato da questa simpatica vignetta che ha per interprete il povero Felipe della strip Mafalda in cui la moneta cade e rimane in equilibrio di lato, sappiamo che i casi possibili sono appunto due. Diciamo almeno che il terzo Felipe lo possiamo considerare trascurabile e ciascuno, si diceva, ha il 50% di probabilità di verificarsi. Se sostituiamo questo sistema con quest'altro, un dado, è intuitivo e facile rendersi conto che c'è più incertezza sul suo stato perché gli stati possibili sono di più. Stiamo sempre parlando di stati per il momento equiprobabili. Qui ciascuno stato ha un sesto di possibilità di verificarsi, cioè il 16% circa. Il grado di incertezza è maggiore e questo significa che un messaggio che arrivi da questa sorgente e che mi chiarisca lo stato in cui si trova il sistema ha un contenuto informativo maggiore perché mi toglie più incertezza. Sapere che per il dado è uscito il 4 toglie maggiore incertezza e fornisce maggiore informazione che non il sapere che è uscito testa o croce. Altri casi seguono poi a ruota. Se consideriamo un sistema con due dadi insieme abbiamo 36 stati possibili, tutte le combinazioni, ciascuno ha circa il 3% di probabilità di verificarsi. Notate che stiamo considerando tutti i casi discreti. Può uscire 1, può uscire 2, non può uscire 1 e mezzo, 1,3528. Non siamo nel caso continuo, siamo nel caso appunto discreto che è il concetto che è la base di qualunque forma di digitalizzazione. Poco cambierebbe sostituendo al dado un certo numero di pixel che formano un'immagine dove c'è alcun subpixel può assumere uno tra tot stati. Non so, le sfumature da 0,255 per il rosso, il verde e il blu dello schema RGB che è la base della formazione del colore per l'immagine a video, ad esempio. Comunque sia, ci interessa capire se c'è una qualche formuletta che, prendendo come base per la codifica il sistema binario, fornisca il numero minimo di bit che bisogna impiegare per codificare uno dei messaggi provenienti da questa sorgente. Sempre per il momento limitandoci al caso tutti i messaggi sono equiprobabili, per il quale la formula sarà più semplice di quella generale introdotta poi da Shannon, anche per il caso non equiprobabile, e che comunque ricomprende nella sua generalità anche questo caso con valori equiprobabili. Se riusciremo a trovare queste formule, capite, che danno un minimo sotto il quale non si potrà andare, avremo anche trovato un modo per capire se ha un senso, se valga la pena scervellarsi per trovare una tecnica migliore. Che margine ci separi ancora dal caso ottimale? Lo scopriremo insieme nel prossimo video. A risentirci!